Pierpaolo Romani e Antonella Miceli di Avviso Pubblico, ultimo appuntamento di questa rassegna 2019 di Politicamente Scorretto. Volevamo cominciare chiedendovi, quello degli amministratori sotto tiro è un tema fortemente attuale eppure spesso nel dibattito pubblico non appare. Secondo voi c'è bisogno di più attenzione mediatica sul tema? Sicuramente c'è bisogno di maggiore attenzione mediatica. Noi come Avviso Pubblico ormai da molti anni stiamo pubblicando un rapporto che oggi costituisce un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per le istituzioni, per conoscere il fenomeno e per poterlo combattere. Negli anni poi abbiamo assistito anche a un mutamento del fenomeno che oggi ha contorni davvero drammatici e che mette in discussione anche a mio avviso per certi versi la tenuta democratica del nostro Paese. Perfetto, voi fate questo report dal 2010, ci farebbe un bilancio di come si è evoluto magari questo fenomeno in questi nove anni e se siete soddisfatti del lavoro che avete fin qui svolto? Per quanto riguarda lo sviluppo c'è innanzitutto un dato di tipo quantitativo. Il primo rapporto censì 212 intimidazioni verso gli amministratori locali, l'ultimo ha superato i 500 casi. Quindi c'è stata un'emersione del fenomeno e anche grazie al rapporto, perché il rapporto ha avuto questa capacità di cominciare a far parlare di questo tema che molti dicevano che esisteva ma che pensavano fosse confinato esclusivamente in certi territori del nostro Paese, in particolar modo il Mezzogiorno e la Sardegna. Il rapporto ha dimostrato a. che gli episodi sono molti di più di quello che si pensava e b. che il problema è nazionale, perché in questo aumento di numero di casi l'aumento si è registrato anche nel centro Italia e nel nord Italia. Cosa ha prodotto il rapporto? Il rapporto, oltre a produrre una maggiore attenzione mediatica, ha favorito la nascita di una commissione parlamentare di inchiesta monocamerale nella passata legislatura e l'approvazione di una legge, la 105 del 2017, che prevede misure di maggiore protezione per gli amministratori minacciati e ha anche alzato le pene rispetto a chi si rende protagonista di minacce e di intimidazioni sotto tutte le forme verso gli amministratori locali, consentendo che cosa? Per esempio agli investigatori di utilizzare uno strumento importantissimo, che è quello delle intercettazioni telefoniche e ambientali, cosa che prima non era possibile. Quindi se da una parte c'è stata l'emersione del fenomeno, c'è stata una sua normazione legislativa, dall'altra c'è stata la concreta percorrenza della strada di ridurre l'impunità nei confronti di chi si rende protagonista di minacce e intimidazioni verso sindaci, assessori e consiglieri comunali. Quindi il trend è in crescendo, ma secondo lei si può invertire nel futuro grazie a questi strumenti che sono stati adottati? Guardi, sicuramente sì, quello che conta è però la cultura, è lavorare con i cittadini, è ridurre l'idea che la violenza sia strumento di regolazione, di conflitti e di rapporti sociali. Questo non può essere, perché quello che emerge dal nostro rapporto è che sì, sono i mafiosi a minacciare, ma i mafiosi tendono di più a corrompere, minacciano proprio quando non ci sono altre strade da percorrere. Quello che ci preoccupa è l'aumento della violenza da parte di cittadini, singoli o in gruppo, che sono passati da insulti magari legati all'invio di lettere anonime e quant'altro, alle aggressioni fisiche e al discredito via social network. Ecco, questo è quello che ci preoccupa molto. Quindi bisogna lavorare per ridurre la conflittualità, restituire fiducia alle istituzioni e far capire che la violenza non porta risultati positivi, porta sempre risultati negativi. Perfetto, grazie mille. E l'ultima domanda è quali strumenti, quali iniziative mette sul campo un'associazione come Avviso Pubblico? Partiamo proprio dal rapporto amministratori sottotiro, che ormai costituisce uno strumento fondamentale per le istituzioni e per tutti i cittadini che vogliono informarsi. Noi redigiamo questo rapporto, cerchiamo ogni anno di implementarlo, anche guardandoci intorno, ad esempio il rapporto di quest'anno, il rapporto che andremo a presentare oggi, guarda anche all'Europa, perché questo è un fenomeno in realtà anche a livello continentale. E da qui partiamo anche per portarlo in giro, nel senso che l'iniziativa di oggi è proprio un'iniziativa volta a far conoscere non solo il rapporto, ma il fenomeno che è stato dietro al rapporto. Siamo stati fortemente impegnati per poter far approvare la legge della quale Pierpaolo Romani parlava prima e da ultimo, ma solo in ordine di esposizione, ma non di importanza, cerchiamo di far capire che fare buona amministrazione e quindi venire incontro ai bisogni dei cittadini è il motore primario per l'inversione di rotta. Nel senso che se noi riusciamo, facendo buona amministrazione, a riavvicinare cittadini e istituzioni, cittadini e amministrazioni, cittadini e politica, possiamo auspicare che questo fenomeno si riduca sempre di più. Perfetto, grazie mille entrambi. A voi, grazie mille. Prego, grazie. Grazie.